Una solida realtà il centro antiviolenza dell'Aquila che da poco ha anche una nuova sede, un punto di riferimento ormai per il territorio e per le tante purtroppo donne che si rivolgono alle esperte del centro per chiedere aiuto e conforto. Negli ultimi anni questa realtà al servizio delle donne è cresciuta notevolmente in termini di qualità, come spiegato nella trasmissione condotta da Daniela Braccani. I numeri noi possiamo dire orientativamente quelli che registriamo noi come centro antiviolenza dell'Aquila. L'anno scorso per esempio è stato un anno in cui nell'arco di un anno tra prima accoglienza e percorsi avviati si sono rivolti al centro antiviolenza circa un'ottantina di donne. Quest'anno le donne sono diminuite, non sono state 80 ma siamo sui 35-40 casi. Questo non significa che le violenze siano diminuite ovviamente. Evidentemente è altalenante la percezione che una donna ha di quanto un centro antiviolenza possa essere un luogo significativo in cui andare oppure in cui non andare. Questa è la mia opinione perché c'è un'unica costante il numero di donne che vengono comunque maltrattate e abusate.